Come avere tutti i brawler gratis su Brawl Stars, oggi il video è veramente particolare. Prima però di iniziare, importantissimo, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché ce ne saranno veramente delle belle nei prossimi giorni. Continueremo a martellare con fantastici video, siamo finalmente tornati dalle vacanze, quindi mi raccomando un bel pollicione di supporto. Vi ricordo che qua sotto trovate il mio link a Twitch e TikTok, se volete andarmi a seguire c'è anche Instagram, insomma ci sono tante cose che potete andare a fare, a me piacerebbe un sacco il vostro supporto. Siamo approdati sul mio profilo dopo un bel po' di giorni, che sono stato out, chi mi segue su Instagram sa dove sono andato e mi sono reso conto di non aver sbloccato ancora tante megacasse. Siamo ancora a due megacasse sbloccate, so che c'è una megacassa gratis e altre megacasse che dobbiamo andare ad aprire, però le teniamo qua e approfittiamo anche di fare eventualmente la sfida delle megacasse per ottenercene una gratis, che sarà una cosa molto interessante da andare a fare, la faremo poi in live o comunque assieme. Quindi seguitemi per scoprire queste nuove avventure. Per il video di oggi, quindi sul come si possono sbloccare tutti i brawler gratis, cosa che io ho fatto, io ragazzi non ho mai comprato un brawler, vi faccio approdare sul mio terzo profilo. Io ne ho tre ragazzi di profili, il primo è Vapor, il secondo è quello con 10.000 trofei che è FT Nabbo e poi c'è FT Aleku, che è quello diciamo backup del terzo dove non gioco tanto, entro quando devo registrare magari terzi video, cose di questo genere. Ho sbloccato dei premi della stagione 25, nuovi metodi per sbloccare i brawler, cose particolari, e adesso mi fanno sbloccare proprio un brawler super raro che è Jackie. C'è un premio star da andare ad aprire, vabbè lo apriamo nel chilling. Allora, questo qua è un profilo ragazzi molto molto vecchio, un profilo che ha soltanto 19 brawler su 81, con naturalmente tutti i brawler che si possono sbloccare gratuitamente. Andiamo a prendere, vabbè, ma anche PSG avevo fatto una sfida, avevo fatto delle robe un po' particolari nel 2000 e non so quando. Infatti questo profilo qua secondo me è 2020, eh. SIGOSCO 2020, invece l'altro, il secondario, è 2019. Vabbè, queste qua sono piccole chicchette per chi giocano un bel po' di tempo. Voglio parlarvi di questa rotta dei brawler, io la chiamo la rotta dei brawler, è sostanzialmente la rotta delle star, dove letteralmente noi con questa rotta delle star possiamo andare a prendere tutti i brawler del gioco. Ragazzi, avete capito tutti? Tutti! Non ce n'è uno che non possiamo andare a prendere con la rotta delle star. Chiaramente ci sono dei brawler che poi escono in anteprima, altri brawler che escono invece successivamente. Quindi il video di oggi diciamo che si può anche considerare un come ottenere tanti crediti gratis, per farci capire, no? Io sono uno che predilige il come ottenere tanti crediti gratis, ho già fatto un tutorial a riguardo, lo potete trovare qua nelle schede cliccabili. Detto questo, oggi vi voglio parlare di come si invece possono ottenere i brawler, quindi un focus più preciso sulla rotta delle star. Iniziamo con la rotta delle star, che cos'è? Si possono sbloccare brawler rari, super rari, epici, mitici e leggendari sulla rotta delle star, si possono sbloccare dei brawler di una specifica rarità in ogni soglia, bisogna ottenere i crediti necessari per sbloccare il brawler e a questo punto poi il brawler viene sbloccato. Per farci capire, noi abbiamo un pass, naturalmente, che si può andare a fare, nei pass si possono ottenere già crediti gratis, quindi già il primo passo è giocare semplicemente facendo le missioni, già soltanto il portarsi avanti, fare le missioni, cose di questo genere, ti assicura un sblocco di crediti. I crediti si possono sbloccare nella soglia di sottostante, che è quella gratuita, e all'incirca ogni pass, facendo un breve calcolo, se ne possono ottenere un bel po'. Siamo sull'ordine addirittura del mille, quindi mille crediti gratis che si possono andare a droppare ogni pass, semplicemente giocando, quindi più o meno corrispondono a due brawler super rari, facendo i calcoli con Jackie. Si può andare poi naturalmente avanti, perché i crediti gratis si possono chiaramente andare a sbloccare da altre situazioni. Mi hanno regalato un... ah, pensavo... c'è un overdrive gratis, non so bene come mai c'è un overdrive gratis, poi vabbè, mega cassa gratuita, questa sarà tutta naturalmente oggetto di altri video che devo andare a fare, ma non vi preoccupate. I crediti gratis si possono ottenere anche dal negozio, in questo caso vabbè, i crediti sono sbloccabili soltanto se abbiamo il pass, però in generale se voi entrate nel negozio è possibile, diciamo, che vi spawni un'offerta di crediti gratis. Successivamente i crediti si possono andare ad ottenere anche attraverso delle missioni, quindi se voi fate delle missioni queste vi potrebbero portare, soprattutto delle sfide, vi potrebbero portare lo sblocco di nuovi crediti. Andando a fare un piccolo check sull'assistenza di Brawl Stars, ci dice che i crediti del cammino dei trofei, dal Brawl Pass, dai premi star, dal regalo del giorno, li puoi usare nella rotta delle star per sbloccare i brawler, la cui rarità varia da quella rara a quella leggendaria. Se desideri cambiare il brawler che hai iniziato a sbloccare, puoi farlo senza problemi perché i crediti verranno trasferiti e usati per sbloccare il brawler che preferisci. Quindi questa è una cosa, diciamo, aggiuntiva, ma come ci suggerisce l'assistenza, quindi non sono finiti i metodi per andare a sbloccare effettivamente i nostri crediti, ma si possono andare a sbloccare all'interno della rotta delle star, con delle cifre anche abbastanza importanti, soprattutto agli inizi 430, 430, 430, quindi ti droppano brawler su brawler. Questo è il primo metodo per iniziare. Poi chiaramente diventa molto più complicato quando uno alla rotta delle star si porta verso la fine, dato che si sono richiesti numerosi, diciamo, crediti per sbloccare brawler un po' più costosi. Ad esempio, i brawler epici sono su 925, ogni tanto ti possono dare anche gli sconti. I brawler mitici sono 1900, i brawler leggendari 3800. Chiaramente all'inizio cercano di incentivarti a giocare nel gioco, quindi come potete visualizzare a schermo, sono presenti anche numerose possibilità di sconto, di scontistica varia e che possono comunque portare delle situazioni che a noi risultano chiaramente molto molto interessanti. Ma il video non termina qua, perché come c'è scritto anche nell'assistenza, un'altra metodologia fantastica per andare a sbloccare dei nuovi personaggi è il semplice giocare le maestrie. Le maestrie di ciascun brawler sono molto interessanti, perché alla soglia numero 3 e alla soglia numero 6, quindi a bronzo 3 e ad argento 3, sono presenti, in base alla rarità, dai 225 crediti totali del brawler raro ad un brawler leggendario dove i crediti sono nettamente growati. Stiamo parlando di 300, quindi da 225 a 300, addirittura 350 forse per i leggendari. Quindi, importantissimo per le maestrie, ho già spiegato in un video come funziona, c'è il vario, il moltiplicatore dei, diciamo, delle maestrie che avviene durante degli eventi particolari. Per quanto riguarda lo sblocco di tutti i brawler, il mio consiglio è, bene, certo, se volete andare a sbloccare, diciamo, il brawler già ora, chiaramente è una cosa diversa e vedete voi cosa andate a fare, scioccare o no. Per noi lineali massima, la rotta delle star è fatta apposta per farvi crescere il più possibile. Quindi non vi stanno, diciamo, obbligando a sbloccare dei brawler difficili. Potete sbloccare subito tutti i brawler rari, tutti i brawler super rari e così via. Questo che cosa vi porta? Vi porta ad avere più possibilità di maestria, vi porta ad avere la più possibilità di scalare il cammino dei trofei. Quindi, chiaramente, se volete andare a cambiare il brawler, lo potete tranquillamente fare. Il mio consiglio è farlo, naturalmente. Se a voi non vi sta a genio lo sblocco di un brawler piuttosto che un altro. Potete andarlo a fare, questo vi porta chiaramente a numerose possibilità di crescita, anche un po' più veloce, devo dirvi la verità. Si possono sbloccare più velocemente i prossimi brawler. Chiaramente poi un'altra cosa che può avvenire è gli star drop. Gli star drop voi, ragazzi, non so se ce l'avete, adesso ci sono le megacasse, quindi volendo in realtà con le megacasse tu ti puoi portare a casa un bel po' di roba, bella golosa. Oppure con gli star drop, quindi in questo caso megacasse. Potete andarla a sbloccare, nelle megacasse c'è un drop rate di crediti. Per quanto riguarda invece gli star drop, gli star drop si possono ottenere dal pass, si possono ottenere dalle missioni, si possono ottenere dal negozio. Chiaramente anche gli star drop, hanno un costo, hanno un costo, un costo di utilizzo nel gioco, ma ogni tanto, ad esempio, se ti capita lo star drop leggendario, io ogni tanto mi lamento che mi escono quei mille crediti, ma c'è gente che se ti escono mille crediti e sei all'inizio, sei la persona più felice del mondo, il regalo più grosso che ti potrebbe fare Brewstars. Quindi chiaramente poi ci sono i vari punti di vista da andare ad analizzare. Per quanto riguarda le classificate, le classificate ottengono, ti possono portare ad ottenere degli, dei crediti, come con le soglie di fine rank. Quindi se noi finiamo il bronzo, ci dà lo star drop epico, se finiamo lo star drop, cioè se finiamo l'argento, ci dà lo star drop mitico, l'oro il mitico, il diamante il leggendario, e così via. Ogni soglia, X che finisci, ti dà una star drop. Questi naturalmente possono contenere crediti gratis, e ci possono contribuire allo sblocco di tutti i brawler. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così, like, iscrizione, attivazione della campanella, e commento. Come al solito, qua sotto trovate tutti i link per andarmi a seguire. Mi ha fatto un sacco piacere fare questo video per voi. Cliccate uno di questi due video, che sono uno più bello dell'altro. A domani, con un nuovo video bomba.